La nona giornata del campionato d'eccellenza vede la capolista Gioiese andare a vincere sul difficile campo dell'isola Caporizzuto, grazie alle reti di Perrotte e Barillà, ma non riesce ad allungare in quanto il Guardavalle sbanca a Soverato e Lacri fa il suo derby con il Castrovilleri. Sconfitta all'ultimo minuto per il Renda-Roccella, mentre il Sersale non va oltre l'1-1 con il Brancaleone. Pari tra il Siderno e Catone, ancora una sconfitta per il San Lucido a San Giovanni in Fiore. Perde l'imbattibilità del Badassare-Sinopoli la Virtus Soverato ad opera di un cinico ed esperto Guardavalle eppure si erano messe bene le cose in casa dei Cavallucci Marini che al venticinquesimo erano passati in vantaggio con Ciaccio che sfrutta un errore difensivo. Rabbiosa la reazione dei ragazzi di Mister Calabrese, al trentanovesimo staglianò con questa sciabolata rimette tutto in partita. Nella ripresa i locali non sfruttano due ghiotte occasioni. La prima con Pereira che colpisce il palo. La seconda con Casas che viene fermato in extremis da Parrotta con Ciaccio in fuorigioco. La legge del calcio condanna chi sbaglia di più. Infatti è Arona a mettere dentro la palla del 2-1. All'ottantacinquesimo minuto arriva la terza rete per i giallorossi con questo imperioso colpo di testa di Corapi. Sentiamo le interviste. Si interrompe la striscia di Vittoria Casalinghe del Soverato all'opera di un guardavalle che si sapeva forse già prima era una squadra comunque che veniva qui per cercare un risultato pieno. Il rammarico credo ci sia perché comunque il Soverato è andato in vantaggio e sembrava poter reggere bene il confronto con il guardavalle. Certo, certo. Sicuramente l'unico, penso sia l'unico rammarico il fatto che abbiamo interrotto la nostra striscia positiva in casa perché comunque oggi la squadra forse in casa ha disputato la migliore partita della stagione. C'era un momento che sull'1-1 noi abbiamo avuto in 5 minuti forse 4-5 palle gol nitide. Non so come abbiamo fatto a sbagliarle però poi giocavamo sempre contro una delle più forti squadre del campionato dove non puoi lasciare, non puoi mai non puoi perdere un secondo, non puoi abbassare la guardia perché appunto loro ti puniscono e in effetti loro hanno fatto gol su due calci piazzati e il gol del 2-1 su una nostra disattenzione. Disattenzione che a parte invertite all'inizio la disattenzione parliamo ovviamente di quella della loro difesa quando Ciaccio era riuscito ad andare a segno. Alle volte anche gli episodi possono decidere effettivamente le sorti di un match? No, 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 certo, certo. Hai detto perfettamente com'è andata perché noi abbiamo fatto anche un gol su una sua disattenzione però penso che al di là della disattenzione noi potevamo fare gol in qualsiasi altro momento della partita perché comunque la squadra ha disputato una grande partita come ripeto la più bella in casa della stagione secondo me contro anche una delle più forti squadre io penso che questo guardavalle quest'anno arriverà lontano ma io sono molto fiducioso anche nella mia squadra perché comunque giocano sempre bene era arrivata domenica scorsa la prima vittoria fuori casa e subito abbiamo risposto con la prima sconfitta in casa però ovviamente siamo concentrati già abbiamo messo una pietra sopra su questa sconfitta che per noi è immeritata però comunque è andata così e già siamo concentrati per domenica prossima che andiamo fuori casa a Catona Con un errore, uno svarione possiamo dire difensivo il Soverate è riuscito in qualche modo ad andare in vantaggio ha creato qualche pericolo poi in apertura di secondo tempo il guardavalle ha rimesso poi la partita sui giusti binari riuscendo a trovare anche ovviamente una vittoria rotonda in qualche modo voi dal campo quali impressioni avete avuto? nel primo tempo avevate il timore che effettivamente il Soverato in casa fosse difficile da abbattere? sicuramente il Soverato è una squadra difficile da abbattere in casa ma non lo dico io, lo dico nei numeri peccato per il gol preso che è stato un errore difensivo la palla è rimbalizzata male però il Soverato fino a quel momento non aveva creato niente quindi sembrava un po' il vantaggio non ci sta verso il Soverato onestamente poi abbiamo rimesso subito in parità abbiamo dimostrato di essere una grossa squadra e di meritare la posizione in classifica e volevo fare, gesto nella premessa volevo dedicare questa vittoria alla Presidentessa fortunato e alla dirigenza tutta 3-1 che in qualche modo lancia ancora di più il guardavalle non che magari avesse bisogno però è sempre stata da tutti la dettata di lavoro indicata come una delle squadre più attrezzate per la vittoria finale del campionato effettivamente voi quali sensazioni avete anche alla luce di questa vittoria? Guarda, noi siamo un ottimo gruppo penso che nel calcio come ogni sport di squadra sia la cosa fondamentale partita dopo partita stiamo dimostrando di essere una squadra che può lottarsela con tutte vero il fatto che non abbiamo mai perso lo dimostrano i numeri per il nostro andamento quindi la nostra consapevolezza è quella di fare bene e comunque stare sempre con i piedi per terra Sull'1-1 l'impressione dall'esterno era che la partita dovesse finire in quel modo poi nei minuti finali avete trovato i colpi vincenti è scattato qualcosa in voi sembra quasi che abbiate voluto a tutti i costi cercare questa vittoria su un campo dove nessuna squadra era riuscita mai a vincere in questo campionato Sì, è vero Vabbè, abbiamo i primi dieci minuti del secondo tempo abbiamo anche rischiato di prendere due o tre volte gol poi secondo me noi ci abbiamo creduto un po' di più abbiamo spinto un po' di più e poi in due episodi siamo riusciti a ribaltare i risultati a fare il 2-1, il 3-1 e poi ormai non c'erano più speranze per loro la partita i toni erano bassi era tutto più lento quindi poi alla fine si è stabilita sul 3-1 però secondo me forse ci abbiamo creduto un po' più di loro In alcuni tratti dell'incontro il Guardavalle pareva quasi giocare a memoria soprattutto nella fase d'attacco quando vi intendevate di prima con alcuni giocatori in altri momenti invece sembrava un po' più macchinosa la manovra come mai c'erano queste differenze di movimento? Sì, perché noi a volte siamo un po' testardi nel senso che cerchiamo sempre di ripartire subito senza gestire bene la palla quindi a volte per esempio do la palla all'attaccante l'attaccante invece di fermarla o farci salire si gira e perdiamo subito palla però penso che sia una questione più di... perché è la voglia forse di fare il gol e di attaccare subito quindi ti portano a fare queste cose Adesso domenica prossima ci sarà il confronto con il Sersale un'altra partita molto impegnativa immagino che siate già concentrati per questo ulteriore big match sembra che quasi siano tutti big match di domenica in domenica Sì, intanto oggi ci vediamo questo derby che era importante per noi e poi piano piano da martedì in poi cominciamo a pensare al Sersale Grazie a tutti Grazie a tutti.